Siamo in Toscana, più precisamente in Maremma. Un'isola felice, con un'economia sana e prosperosa, che da tempo però fa gola a mo'. Ci avrebbero ammazzato, ci avrebbero tagliato la gola. Un territorio dove la mafia è ancora più indisibile. Una sorta di cupola di intimidazione, di estorsione. A Follona, io ho tanti amici, commercialisti, insomma. Qualcuno è venuto e non ha portato via un sogno, ha portato via il cassetto, con tutti i sogni. Queste persone riescono a entrare nel territorio, ma nella misura in cui il territorio le consente. È un po', forse, nessuno ce lo sa, però tutto quanto sa nello che lo potiamo fare. Grazie. 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 Grazie.